Ciao, di nuovo insieme a parlare dei semi di Tao, quest'oggi legati al fuoco e alla sua forza ascensionale. Il fuoco è legato al cuore e alle emozioni della gioia che salgono verso l'alto, esattamente come la figura del triangolo, o ancora meglio come la figura rappresentata dalle piramide alle mie spalle. Quindi il cuore e la gioia ascendono verso l'alto, tutto il contrario di quello che fanno le emozioni negative, quindi polarizzate, legate al cuore, che sono l'intolleranza e la fretta, che invece schiacciano l'essere umano verso il basso. Per armonizzare e trasformare le emozioni negative in virtù, in particolare nella virtù della gioia, quello che si può fare è mettere il sonno del cuore, molto semplice, che fa... proprio come se il cuore, questo alito, salisse verso l'alto. Si può mettere tre volte, alzando le braccia, muovendosi, inclinandosi verso destra, prendendo il cuore e facendo... Puoi anche mandare indietro il video e ripetere questo suono 3, 9, 18, 36, 108 volte. Intanto lascia un commento sull'utilità che ha per te questo suono e io ti auguro buona vita e buona vita.